Casterital di Planet. Questo progetto invita i visitatori virtuali in una vetrina che vuole presentare il territorio tramite i sensi, i cinque sensi. È un messaggio profondo che il territorio vuole dare perché i sensi non sono cosa semplice, perché i sensi non sono cosa scontata. È un invito quindi ad entrare dentro il territorio e scoprirlo tramite esperienza anche se virtuale ma diretta. Nel senso che andrete a vedere e a visitare direttamente siti o direttamente il produttore dei nostri prodotti di eccellenza. In qualche modo fate un viaggio attraverso i sensi nel nostro territorio fatto di verde, di cultura, di sapori, di odori. Tutto vi assicuro molto intenso, molto intenso.